I studi di TV City, il presidente del Consiglio Comunale, editore del Greco, Gaetano Frulio, 14 mesi mancano alla fine di questa amministrazione che sembra però essere già arrivata al capolinea. Sì, non soltanto sembra, lo è senza dubbio per quanto riguarda il sottoscritto e anche coloro i quali insieme a me e alla collega avvocato Luisa Liguor hanno aderito alla mozione di sfiducia al sindaco, quindi alla presentazione della stessa, riteniamo che non ci siano più i presupposti per proseguire nell'azione amministrativa. Ecco il perché della presentazione della stessa e aspettiamo adesso di andare in aula per vedere se questa venga confermata dai sottoscrittori su questo non ho dubbio e se altri consiglieri vorranno unirsi a noi in questa previsione di chiusura. anticipata del percorso. Ricordiamo chi ha firmato questa mozione? Sì, sono stati i consiglieri Piccirillo, il consigliere Caldarola, il consigliere Guarino, il consigliere Borriello Santa, il consigliere Salerno, il consigliere Ciavolino, il consigliere Gramegna, il consigliere Gargiulo e poi il sottoscritto e la consigliera Liguoro, come dicevo poc'anzi. Se vogliamo fare il punto di questa amministrazione fino ad oggi, obiettivi raggiunti e cose rimaste risolte? Cose rimaste risolte sono tante ai noi e sapevamo che ci scontravamo contro una realtà difficile anche perché l'eredità di quello che è stato precedentemente era un'eredità pesante. Abbiamo fatto delle scelte ai noi sulla raccolta sull'igiene urbana e palesemente sbagliate, fallimentari, nonostante ci fossimo confrontati prima ancora di votare quel piano industriale. Sapevamo di alcune criticità, abbiamo provato a correggere, ma non sono stati sufficienti i rilievi che abbiamo fatto a suo tempo e la cosa che più mi è dispiaciuta è quella che ci sono sfuggiti un attimino il indirizzo e controllo che poi sono un pochettino il perché della politica e il perché dell'interazione tra l'eletto e gli uffici delle amministrazioni stesse. Beh, ci è sfuggito perché abbiamo continuato a sussurrare l'indirizzo durante questi anni e il controllo invece, altrimenti ci è sfuggito anche lui in quanto i risultati lo dicono apertamente. Oltre al fallimento del sistema di igiene urbana, che cosa secondo lei andrebbe ancora migliorato? Senza dubbio un intervento, il controllo del territorio fuori di dubbio, non lo abbiamo, nonostante il comando di Polizia Municipale sia stato svuotato da questi pensionamenti che si sono susseguiti negli anni, però poi abbiamo visto una serie di unità che si sono unite nuovamente per rimpolpare le fila dello stesso comando, però ancora ad oggi la città non ha un controllo pieno così come dovrebbe essere, soprattutto su un territorio vero, vasto come il nostro, però comunque un territorio che rimane assolutamente possibile tenerlo vicino, tenerlo dagli attenzioni. E invece continuiamo a notare che spesso durante l'arco della giornata, per non parlare della sera, si continua ad essere indisciplinati se non di più. Poi l'ordinaria amministrazione, questa è una ferita, una piaga che è ancora aperta, per realizzare la segnaletica orizzontale non ci si può impiegare 12 mesi, non possiamo fare una richiesta di ripristino dei sanpietrini in villa comunale nell'ottobre del 2020 e ancora ad oggi vedere gli stessi sanpietrini che non sono stati riposizionati. Queste sono delle vicende che non trovano scuse da nessuna parte. Possiamo immaginarci tutte le progettualità più importanti di questo mondo, cosa che alcune sono state fatte, quella sull'area portuale, una su tutte, ma ce ne sono anche altre in itinere. Però non è possibile che l'ordinaria amministrazione ci sia sfuggita così di mano e non è più controllabile. Qual è stata la prima reazione del sindaco di fronte alla vostra iniziativa della mozione? Il sindaco è caratterialmente un giocherellone, quindi l'ilarità non gli è mancata, però conoscendolo ritengo che anche egli sia teso perché lui è consapevole che ci sono una serie di vulnus nell'azione amministrativa che ormai sono diventate crepe profonde che non possono essere più colmate, per cui mi rendo conto che il sindaco come istituzione, ma soprattutto la persona, sia in difficoltà e probabilmente anche egli in corso suo potrebbe sperare che questa mozione abbia il fine ultimo che ci siamo proposti, in maniera tale che torniamo tutti quanti a dare la parola alla città e chiedere che la stessa faccia le scelte migliori perché un'amministrazione successivamente possa riproporsi in maniera più incisiva di quanto non siamo riusciti a fare noi in questi anni. Grazie